Vi ricordo che vado in live tutte le sere alle ore 21 e 29 sul sito Viola. Mi potete trovare cercando Nefastone. Certo, anch'io perdo quando sono counter, ci mancherebbe altro. Andiamo. Nuova partita. Era meglio fulminare il collector specchiato, sì, 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 è vero. È vero, è vero, è vero, sì, è verissimo, non ho altri spot in altri matchup, è verissimo, qui ho sbagliato. No, no, ho sbagliato, ragazzi, è verissimo. È un altro ciumbambosis, però, insomma, eh, raga, ne becco tanti dei ciumbambosis, eh. Ne becco un po' troppi, forse, anche. Ok, questo non è stato una buona fulmine, eh. Vabbè, speriamo di non beccare più ciumbi. Eh, raga, eh. Trattorino teca del fulmine, ma che cazzo sta di Google? Oh mio Dio, avete visto che cosa sta facendo? Eh. Vediamo. Io volevo fa' uno e due. Non benissimo. Abilità la facciamo perché siamo costretti... Io spero che qualcuno mi vada a gestire il bombarolo. Più che qualcuno... Ok, qualche scheletro sta scammando e va bene, però gestite il bombarolo, vi prego. Oh mio Dio, se mo faccio unbi davanti il bombarolo e perdo la torre per il bomber, io mi sento male, eh. Raga. Ora, il Leblonde mi hita perché tanto scamma sempre, quindi non... Anche se avessi fatto questa, avrebbe comunque hitato. Parlamoci chiaro. Vediamo, ok. Vediamo se fa' scheletri, sì. Eh, qua forse conviene tipo... Eh, se mi arrivasse veloce perché sennò gli Zappis, ecco, me tolgono terreno per la puttana madre. Speriamo a fare qualche dannino così. Del demonio, putt. Questa la farei adesso che in teoria non ha l'elisir per Tornado. Semplicemente per questo Motivs. Però il raga comunque non riesco a difendere, è terrificante nell'animo, eh. Poi magari adesso questo qua fa il Mirror, eh. Perché lui può fare anche Mirror, attenzione. Minchia. Eh, io ho troppa paura della specchio. Faccio questa per cicla gli Zappis. C'ha solo sto senso. Ciclo gli Zappis per il Mirror. No, non è... Non è specchiato, ciombi. Vediamo se fa Bomber. Puttana bestia. Mi deve giocare qualche altra carta, però, eh. Ottimo, 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 ottimo. Facendo questa non può più specchiare come prima. Non può più specchiare come voleva l'opponent. Ovviamente dobbiamo andare... E' una madonna! Ma dai! Ma dai! E riesce, e rimane in vita. No, ritorna indietro. Dove cazzo vai? Ma dove cazzo vai? Ma io volevo attaccare... Eh, ok, facciamo qua la testa per carità Senuar. Ok, ti prego, non farmi tornado, bastarden. Non farmi tornado, bastarden. E tu mi fai tornado. Eh, ragazzi, meglio di così, davvero, credetemi, non si poteva fare. Che ho di aver fatto davvero una grandissima partita, parossalmente. No! Dov'è il farmer? Ma altro c'è un bambosis. L'abilità io la faccio più che altro per il canone. Se mi arriva l'abilità io non mi incazzo, giuro. E' arrivata veramente, wow. Ok, non c'ho troppo senso. Ok, devo fulminare per disperazione perché non c'è un altro spot nella mia vita, capito? Dove posso fare tutti sti danni. Quindi mi vanno super bene, direi. Io la tronco la faccio nella speranza di fare un'ultima hit. Wow. Wow. Eh, ragazzi. Giocate in god mood. Meglio di così se muore e l'ho vinta. Ragazzi, ho giocato in god mood. Non mi si può dire niente. Cioè, l'unico parlume per poter vincere sta partita, ragazzi, l'ho trovato. Grazie per il GG, ragazzi. Eh, grazie mille. Perché è davvero tanto difficile. Nuova partita. Sei un campione. Grazie. Spero di non essere il colossal miner perché è quello che fa più cagare, però... Te ringrazio. Non so il colossal, vero? Allora, ragazzi. Potrebbe essere o Mastino, o Log Vait, o Cuman Losis. Friccio. Potrebbe essere Mastins. Cioè, creiamo qualcosa per fare la scamp play. Vediamo, ragazzi, se possiamo andare di scamp play. Io la faccio, eh. Ci mancherebbe altro. Vado su. Golem di Elisir. Puttana ladra. No, abilitati, prego. L'ho cliccata, eh, l'abilities. Non mi aspettavo i Golem, ragazzi. Mi sono dimenticato che esiste anche lui. Chiedo scusa. Riesco a gestire il Dragon. Perché se dovessi riuscire a gestire il Dragon, non sono messo male. Oddio, devo riciclare il deck per carità nella maniera corretta che ora fa vomitare. Qui sono 100-0, sono super counter. Solo che ho sprecato tutte le carte migliori contro di lui. Va bene, gli Zappis fanno ultra comodo. Quindi, già il fatto che ho di nuovo Zappis, sono contentissimo. Lui farà i Golem, ma dove? Dove fa i Golem? A destra o a sinistra? Ok, lui fa di qua. Ovviamente andiamo anche noi di qua. Se fa Drago elettrico, posso fulminare. Altrimenti nulla. Eh, capito, qua non posso. E qua non se può, ed ha. Qual è il Discord? È che mi devono arrivare in tempo un pochino tutti. Puttana bastarda. Abilità, abilità, abilità. Io l'ho cliccata, eh. Se non mi arrivi, è scam come al solito. Però io l'ho cliccata, mi dovete credere. Santo Dio, Pater Nostra. Allora, dai, andate a gestire tutta quella merda. Che cazzo vi go? No, la guaritrice è ancora in vita. Come faccio a non bestemmianare mai con io? Scusate, ragazzi. Come cazzo si fa a non bestemmianare mai con Antico? Qui, qui è super antico. Una madonna, queste frecce però sono forti, effettivamente. Lo dobbiamo concedere all'opponent. Allora, qual è il Discord? Che lui sta per fare un altro Golem, a me stesso sarà terribilmente forte, un'altra volta. Quindi noi c'è... Ah, dall'altro lato! Vuoi cambiare l'Ane? L'opponent decide di cambiare l'Ane. Vabbè. Mi dissocio. Questo lo devo dire. Non mi piace questa scelta. Anzi, direi che fa letteralmente vomitare. Abilità io l'ho cliccata, spero che mi arrivi, perché, giustamente, sapete com'è, no? Il mio deck mira tantissimo a vincere grazie alle abilità. È letteralmente la Queen Condition. Quindi è molto, molto fondamentale. Oddio, poteva avere un pescatore in più, forse, I think. I don't know. Qua in realtà è fortissima anche la fulmine. Credo proprio di andare a fulminare, in effetti, qua, no? E i danni dovrebbero essere davvero magistrali. Aveva barbari scelti. Pensavo fosse un'altra versione. Questa volta mi ha stupito l'opponent. Devo essere sincero, non me l'aspettavo, eh. Bene. Bene, bene, bene. Una partita, ragazzi, siamo a 7100. Ah, si chiamava così! È una madonna. Sì, ma non mi interessa. Raga, belle cose. Qui ero 100-0, eh, ragazzi. Alba Adriatica, sì, a voglia. A voglia, a voglia. Ah, assolutamente, sì. Se va la prossima. Quando torni a Senigallia? Non lo so. In realtà non lo so. Al mare sicuramente ci andrò in settimana, ma non so quando, non so se di mattina, di pomeriggio, non so nulla. Però sicuramente in settimana passo a Senigallia, di sicuro. Ecco, Fano, paradossalmente, mi è un po' più distantina. Non... Cioè, buonanotte, più scomodina, forse. Non ho niente da fare a Fano, capito? Quindi in realtà non so quando ci ritornerò. C'ho degli amici, sì, ma non è che ci ho organizzato qualcosa. Cioè, mentre a Senigallia vado proprio per andare al mare, a Fano non ci vado per andare al mare, perché è più distante, non è bene o male, è lo stesso mare, diciamo. Solo che è solo più distante, capito? Quindi mi rimane più comodo Senig, solo per questo. No, non sono di chiaravale, ragazzi. E vabbè, ragazzi, io che devo fare? Cioè, non è che becco tanta roba diversa da Ciumbambosis? Becco Ciumbi? Sono molto bravo a beccare Ciumbambosis contro, in compenso. Questa è proprio una mia dote naturale. Vi prego, gestite il bombarolo. Madonna, ottimo, ottimo, bei dannini, bei dannini uguale... Aspetta un po'. Dimmi che non carichi le disirche, io come attivolatore centrale, lui ha già fatto Tornado, può specchiare? Madonna, ragazzi, bene, 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 non gli abbiamo fatto tirare Tornado. Ora potremmo provare a scammarlo, perché lui farà sicuramente cannone e scheletrini da uno. Puttana! Drago Inferno in Ciumbambosis. Eh, vabbè, ragazzi, ammetto che non mi aspettavo di vedere... Cioè, ragazzi, non è una carta che si gioca con Ciumbi. Questo lo dobbiamo dire. Non è proprio una carta che si gioca con Ciumbambosis. Wow, questo è fortissimo. Faccio comunque abilità... So che fa abbastanza vomitare, c'è il Bomber, c'è davvero di tutto. Lui ha anche il Mirror. Facciamo subito questa, se ci fa Tornado, GG per lui, davvero. Oh! Cabo! Riesca ad avere Zappis in tempo, secondo voi? Mignotta, che ha giocato benissimo, ragazzi, si merita la vittoria, ragazzi. Non so quanto di più potevo fare contro di lui. So sincero, forse qualcosina in più... Oddio, non ho perso la torre, però ho troppo svantaggio di Sir qua, ragazzi. Sì, 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 no, qua è persa. È perché c'è il Drago Inferno, capito? Senza Drago Inferno, secondo me, potevo davvero dire molto di più la mia. Madonna, un altro Ciumbambosis. Non è che c'è tanto che io possa fare qua, ragazzi, abbandono. Cioè, uno solo a me distrugge, figuriamoci due. Cioè, figuriamoci due Ciumbi. La vedo molto, molto dura qua. E poi, ecco, lui c'ha pure Leblond, che riesce a scammare costantemente tutto quanto. Cioè, guarda, Leblond itta la torre. C'ha la fulmine. Eh, vabbè, giù. Eh, alzo le mani, ragazzi. No, aveva anche Drago Inferno. Cioè, questo è anche più counter dei soliti Ciumbambosis. Meno 28, vabbè. No, raga, io a 7100 mi fermerò, ve lo dico. E forse droppo tutto, e forse le farò addirittura off-live, eh. Se adesso dovessi droppo a tutto. Però, di più, ragazzi, io non posso, eh. Tocca salì e tardì. Eh, ma non lo devi di a me, lo devi di al gioco. Perché se io becco solo Ciumbambosis non posso salì. Se ogni tanto becco altri deck arrivo a 7500. Io, raga, più di andare oltre il limite del disumano non posso fare. Tipo, questo può essere Mastinolavico. Io faccio direttamente la Scamplay perché so sicuro che è Mastino. No, è un altro Ciumbambosis, forse, addirittura. No, non ci posso credere, è un altro Ciumbbi. No, non ho parole, ragazzi, è un altro Ciumbambosis, questo. Uno di vita. Uno di vita. Uno di vita no, eh. Ti prego. Non fa roba strana. Vediamo se è la versione con pipistrelli o con... Ok, va bene. Va bene, dai, raga, potremmo andare 3000 volte peggio, eh. Raga, non dovrebbe avere scale... Oh no, ti prego, dimmi che vedi scintilla. No, no. Va bene, va bene, se gli zappi sfanno il loro... Eh, però perdo comunque la torre, mi sa, ragazzi. Mi sa che... Eh, la perdo, la straperdo, anzi. Eh, sì, raga, è strapersa. Peccato. Ah, ma... Ah, giusto, la zappa. No, è strapersa. Peccato per il pescatore, che poteva targettare, magari. Eh, che cazzo, eh, no. Eh, vabbè, raga, le blonde lo trovo spec... Ecco, fortuna che domani lo nerfano, capito? Perché se no, ecco, sarebbe già difficile il gioco. E poi io non becco un mezzo positivo e becco pure carte che sono sbilanciate, capito? Quindi, grazie a Dio Supercell ha deciso di nerfarla. Io vorrei provarstila sta partita perché mi serve un errore piccolo dell'opponente e riesco a recuperarla, eh. Però mi serve un errore, comunque. Va bene. Non è male, per ora. Fidatevi, deve fare scintilla dal fondo. Cazzo, questa non è scintilla dal fondo, però, Dio. Pater Noster. La vedo malvagia. No, che cazzo succede? No. Santo Pater Noster. Devo salvare i Zappis tutta la vita. Eh. Io, ragazzi, però ho fabbili da adesso. Cazzo, sbagliato. Deve rimanere in vita il pescatore, se hanno perso, raga. Eh, però, no, devo andare dalla... Eh, ok, devo provare così, ragazzi. Farà sicuramente Mega Sgherro in tu... In tu... In tu mi pecca. Io, raga... Eh, io so tutto, raga, quello che vuole fare. Lui, vi dovete fidare di me. Se io non posso fare una cosa... Cioè, nel senso, io non faccio una cosa, non è perché non voglio farla, ma perché UMANAMENTE non posso farla. Mi dispiace dirlo, ma è così. Ok. E questo... Eh, però, raga, vedete, è inutile ormai. Ormai mancano troppi pochi secondi alla fine. Io devo fare questo di qua, secondo me. Se riesco a fare l'abilità, sono contentissimo. Non ha senso aspettare full mini strane qua, no? Poi, ovviamente, il mini pecca targetta il GR, perché se no, nei bastoni sarebbe troppo fortunato. Insomma, ragazzi, non sto avendo fortuna per niente. Comunque è imbarazzante che continuino a nerfare tutte le spell. Prima terremoto, poi tronco, ora fireball. No, vabbè, è giusto, però, secondo me. Qualche spell è giusto che venga nerfata. La tronco io non l'avrei nerfata, vi dico la verità. La tronco... no. Cioè, era bello che anche un deck cycle fosse nel meta, capito? Tipo, il 2.6 sta cadendo davvero in disuso, purtroppo. Ok. Per quanto riguarda nerf di Rocket, io sto d'accordo. Cioè, nel senso, è giusto che non siano proprio così tanto forti come Wind Condition. E mi ho beccato forse una trivella con Valkyria Torre Infernale, raga. Tenetevi fronte. Ah no, è Log Bait, va bene. Dio, va bene. Adesso è nefasto dire che è Log Bait, va bene. Insomma, eh. Cioè, peggio del Log Bait c'è il Mastino Lavico. Io l'abilità la faccio sempre. Cioè, almeno non c'è la Torre Infernale, ma c'è il Cannone. E... lì ho un po' di robetta, forse ce l'ha. No, non c'è più un cazzo. Eh, io ce provo, raga. Eh... Sembra inutile come giocata, lo so. Ha un altro Cannone. Eh, GG, ragazzi. È completamente impossibile. Posso davvero Fulmina Torre Infernale. Valkyria, struttura difensiva in un deck cycle. Questo qua ne gioca 25 dei Valkyrie, fidatevi. Può arriva a giocare anche 25 Valkyrie, secondo me. Il Farmer non ce l'ho, ovviamente. Non c'ho il Visir, va bene. Secondo Format. Eh, è fine stagione, caro. Indovina. Cioè, è fine stagione. Andiamo. No, che cazzo faccio? Ok. Buono. Malissimo. Allora, io aspetto... Cioè, io spero di riuscire a prendere davvero pochissimi danni nel per uno. E nel per due proverò a fare i GR dal fondo. Te prego. Luana. Dimmi che l'ho presa, dimmi che l'ho presa, dimmi... Ok. Al posto di Principessa Luana, insomnia. No, ecco, questo qua pure, che fa 3000 danni più della Fireball e costa uno, non è giusto. Allora fatelo costare due. Cazzarola. Troppo forte. Poi la gente non gioca più a sto gioco e ci credo. Fa schifo, non c'è niente debilanciato, niente di giusto c'è. Chiamami Queen. Ma facciamo questa. Ok. Eh vabbè, ha capito dove voglio giocare con le truppe. Io faccio questa al fondo, ovviamente. Ottimo che ha già giocato l'abilità, eh. Ottimo. Zappis qua dovrebbero essere abbastanza carini. Però c'è un'altra Valkyria. No, raga, è tutto inutile. C'è un'altra Valkyria per tutta l'abilità che c'ho lì, eh. Infatti. Sai che ti dico, l'abilità la faccio comunque perché so disperatissimo. So che non vado da nessuna parte. Guarda. Eh, per farlo sbagliare. Almeno ha giocato uno degli Seer. Con una carta che comunque mi crea dei problemi. Va bene. Solito placement. Lei è invivibile. Io ragazzi non sono mai riuscito a fare danni sotto torre, eh. Cioè, capite il Discord? Riuscite a capire, a comprendere? Faccio il primo GR ora. E non credo che abbia... Un modo di... Ah. Pure... C'è pure questo. Eh. E insomma. Diciamo che l'Oppoled qualche carta che mi dà fastidio ce l'ha. Io qua, ragazzi, non mi dispiace ma non posso proprio giocare... Carte del tipo... Fulmine su di lei che è già morta, capito? Non ha davvero senso. Mi dispiace un botto, ma non... Qui in compenso ho giocato bene. De là è tutto morto. Provo così, ragazzi. Perché lui deve fare Valkyria dall'altro lato. No! Come? Come? Ma come? Ma è pazzo. Ma gioca a caso. Gioca a caso e mi asfalta. Non c'ha giocate... Non c'ha giocate che perdono a quanto pare l'opponent. Ci avete visto? Ha giocato da caso. Ha giocato Valkyria di là. Se ne è fottuto. Di tutto quanto. Non ci voglio credere. No! Siamo ai limiti del disumano, eh! Limiti del fantascientifico, come dico io. Eccala! Bravo! Che ti devo dire, caro? Un'altra Valkyria? No, io so... Sono davvero senza parole, perché non... Non credo... Oggettivamente riusci a fare un miracolo così grande, stavolta. Zitti, 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 zitti. Non c'ho altre possibilità io, ragazzi, eh. Non c'erano altre possibilità, ve lo spoilerò. Questo qua deve fare un'altra Valkyria. No, l'ha già fatta! Come? Come? Ha giocato un altro cannone! No! No, raga, ditemi voi! Non sono mai riuscito a fare nemmeno un danno sotto torre. Eh. Se va alla prossima, che devo fare? Secondo me dovresti mettere l'Hunter. Eh, ma in questo matchup era inutile però, per esempio. In questo matchup, rossalmente, era meglio la strega madre, no? La posso tirassere un altro sui Goblins. Cioè, qua in realtà l'Hunter non faceva proprio nulla, caro. Non so perché, secondo te, per simpatia forse. Perché qua non ha senso. Cioè, Hunter era ancora peggio. No, ci sta. E uno magari preferisce una carta, non per un vero motivo, ma anche per il funzionamento, no? Quindi, oh, 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 calmi, 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 calmi. Si può usare per il Barile, ma non è un problema il Barile, però, purtroppo. Il problema è che lui cicla velocissimo le Valkyrie e le strutture difensive. Cioè, non è quello il problema, secondo me, almeno. Comunque, questo ottimo matchup, eh. Io, io, ok. Oh, no. Ok, no, un attimo ho avuto paura perché io l'abilità, giuro, raga, che l'ho cliccata. È morta la puttana madre. È morta la puttana madre, vero? Non la vedo più in game. Non so se voglio davvero fare altro qua. Che va bene anche così, sono bei dannini, no? Sì, credo di poter fare questa. L'abilità non riesco a farla, perché... Oddio, non è che c'ha barbari scelti, lui. Oh, madonna. Oh, madonna mia. Ok, non gioca la mia versione. Ok. Lui ha la... No, eh... Ma qua in realtà la situazione è un attimo... Bisogna pensarla, non è così proprio intuitiva, eh. È un attimo qua. What? Ma cosa stai facendo? Con il miner lo giochi, davvero? Boh, sta versione particolare, eh. Ovviamente non è la mia. Io non so se questa è buona. Ne sa di no. Farà Drago Inferno, vedo sto spoiler. Bravo, nefasto. Però non so se la sua ripartenza è difendibile. Potrei aver perso la partita. Perché contro i golem va giocato in maniera molto passiva. Sono 100-0, non c'è motivo di... Non c'è motivo di fare queste cose, capito? Proprio non... Non c'ha senso. Se io aspetto a fulminare... Crebio. Cazzo, fortuna che non ho fulminare. Minchia, raga, sapete che l'ho persa, veramente? No, non mi è arrivata in tempo l'abilità, ho perso. Non ci credo, raga. Non mi è arrivata in tempo l'abilità, ve lo giuro. Io l'ho cliccata, raga. Aspetta, forse non l'ho ancora persa. Per pochissima, forse ancora non l'ho persa, raga. Non ne sono sicuro, eh. No, la puttana madre pure mi scama, no. E allora l'ho persa, sì, ragazzi, a sto punto. Cioè, raga, io non so come difendo tutta sta merda, eh. Non lo so proprio. Eh, raga, dove arriva l'abilità? Ho perso. Farei l'idea comunque, raga, che... Io perdo secco perché non arriva l'abilità, eh. Dio paternoster. Eh, raga, ma ha asfaltato, raga. L'abilità non è arrivata in tempo e io ho perso. Ancora c'è un bot e roba da difende, capirai. Io, raga, vorrei giocare a lui, per esempio. Per qualche arcaico mistero non mi arriva adesso. Non arriva. Ha deciso di far sciopero, avete visto? Lo sciopero. Boh, non c'è sta capo in cazzo, raga. No, no, ma ha asfaltato, raga. Non è arrivata l'abilità e non sono riuscito a difendere. Eh, l'oppone ride. Eh, fai bene ride, caro. Andiamo. No, qui sì, ragazzi. Qui era meciò positivo perché l'abilità mia è fortissima. Se però non mi arriva, io, raga, non posso fare nulla. Cioè, nel senso, eh, vabbè. Perdo l'abilità. E io vinco per l'abilità, spesso. Però sì. Era giusto, eh, ragazzi. Io potevo difendere, raga. Ho cliccato l'abilità, ma non mi è arrivata. Con le golem basta che sbagli una minica cosa e perdi. Eh sì, ma io non mi è arrivata l'abilità però, il problema, capito? Il problema è che io l'abilità l'ho cliccata. Cioè, io non è che ho sbagliato. È che però non mi è arrivata. Capito? Discord. È quello lì che a me dispiace. Io sapevo tutto. E però non mi è arrivata. E quindi gg all'opponent così. Qui facciamo questa per disperazione. Ma lo sapete che forse va pure benino? Se la strega madre rimane in vita, ovviamente. Oh, non male. Ho fatto una torre contro... Buono, raga. Buono, mongolfiere a gelo. E mi ho ristabilito le cose. Andiamo. Vediamo cosa fa lui. Bowler. Devastante nell'animo, lui. Vediamo. Qui non ho grandi idee. Faccio questa per ciclare. Anche perché lui... Oh, my God. Oh, my God. Devo fare orco... No, Dio. Por favor. Aspetta, aspetta, aspetta. Che qua lo scambiamo, eh. Qua lo scambiamo? No, fa la congelamento. Fortissima, mi sa. No, no, no. Non lo fa. Non lo fa. Abilita, 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 abilita. No, dove vai? Ma come? Ma come ritorni indietro? Ma perché? Perché? Ma non c'è senso. Non devo davvero essere scammato a livelli così estremi ogni partita. Avete visto? Abilità. Eh, buonanotte, abilità. Ormai mi sogno le abilità che non arrivano. Fulmine. Ti prego, non mi congelare, se puoi. È perché, sai, tutto sto desir non lo dovevi avere. Andiamo. Questo è un nabbo. Eh, insomma, però è... Eh, questo è un problema grande. Eh, oddio, è nabbo. Però adesso sta giocando bene, mi sa. Cioè, questo effettivamente è forte, sto bowler. Anche lui è molto forte. Ok, ho capito che devo solo girare fulmine. Cioè, qua o fulmine o fulmine, ragazzi, eh. Non è che ci sono alternative, quindi... In realtà, parossalmente, la giocata è molto... Che cosa è successo? Che cosa ha fatto? No! No! Ok. Mamma mia, raga, mi ha preso un infarto. No! Cribbio, no! 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 No, questo adesso mi fa la mongolfiera. Devo fare questa per il boscaiolo. Ah, lo fa di là. Ah, aspetta, però. Aspetta. Ma io non devo difendere per forza, però, mi sa, vero? Perché è molto difficile qua difendere, ragazzi. È in testo spot. È praticamente impossibile, in realtà, secondo me. Qua... No! Ha congelato così, ma è un pazzo. È un pazzo. Perdo contro i golem, vinco contro mongolfiera, bowlergelo. Io so il contrario, raga. Santo Dio. Grazie a Sdrubali, comunque, per il terzo mese. Buonasera, Doc. Buona fortuna. Grazie mille, ne ho bisogno. Grazie per il terzo mese del livello 1. Pagato con il cash. Grazie di cuore, caro. GG. Non pensavo, eh, ragazzi, vince contro mongolfiera gelo. Alla fine ha sbagliato. Ha attaccato la torre con 200 HP. Bastava giocare semplicemente il boscaiolo. Lui non so perché non ha visto sta giocata. Andiamo. Ah, l'aveva asfaltato prima, Ethan? No, ma ci credo, eh. Ci credo. Cioè, voi siete super attenti, quindi difficilmente sbagliate queste cose. Allora, adesso qua facciamo... No, questa non si fa mai. Perché pipistrelli è contenuto nel deck gigante cimitero. Se faccio questa, poi gigante cimitero diventa devastante nell'anima, mi capite? Quindi quella giocata lì naturale è una giocata che vi fa perdere la partita, delle volte. Farà gigante, eh, spoiler. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Questa è la difesa, praticamente, come se fosse scintilla, lui. Abbiamo giocato alla stessa maniera. Sarebbe bello giocare ora il... Però qua effettivamente c'è tanta tanta roba. E anche se lui ha cimitero, mi piace da morire giocare questa strega madre. È davvero fortissima, secondo me. È vero che lui ha cimitero, è vero che mi sto assumendo dei rischi contro un deck contro cui dovrei fare il minimo indispensabile. Però questo è uno spot davvero troppo bello, ragazzi. Se addirittura posso fare questa e predictare mini pecca. Perché qua lui non è che ha altre giocate, può solo fare mini pecca. Ah, forse l'ho giocato un po' in anticipo, non aveva elisir. Sì, qui ho sbagliato, paradossalmente. Lui non aveva elisir. Però qua gli scheletrini iniziano a essere tanti, eh. Cioè, i maialini, gli scheletrini iniziano a essere tanti, tanti, eh. Ragazzi. Tanti maiali. Tanti maiali, ragazzi. Tanti scheletri qua sto messo da Dio. Sì, ragazzi, come vedete ho fatto... Il push era comunque corretto. Buono. Ragazzi, un bel mission positivo abbiamo trovato, eh. Eh sì, l'allevamento di maiali dell'orozione fasto. Guarda l'opponent. Vediamo un po'. Non è che poteva far tanto contro di me, ragazzi. Eh, vabbè. Top 44 nel torneo globale. Inutile. Eh, vabbè. 8000 coppie. Inutile. So 100-0, davvero. Non può fare nulla. Mi potete da chiunque, ragazzi. Anche top 1 al mondo. Con sto deck, ragazzi, ecco il mio contro con la strega madre. E il King of Skeletons non posso perdere. Non è stata nemmeno la bella partita. L'ho proprio asfaltato, ma perché... Ma in modo imbarazzante l'ho battuto. Ma non poteva proprio fare nulla, ragazzi, lui, eh. Cioè, non è che sono stato bravo io. Ci ho avuto le carte, semplicemente, nel deck. E lui non c'aveva niente per togliermi la madre, in modo buono. Non ho scheletonarmi io qua, invece. Mannaggia la puttana. Devo fa pescatore, eh. Che in realtà è buono, perché delle volte fa addirittura Mega Knight, lui. Però dobbiamo... No, dimmi che l'ho presa. Dimmi che l'ho presa, se no davvero bestemmio. Dai, fammi i pipistrellini. Dai, che li puoi avere, eh, pipistrellini. Non fa il timido. E non fa il tim... Mignotta! E questi non è che sono proprio pipistrellini, eh. Puttana due. Porco diaz, ragazzi. Ecco, l'avete presente la scheda? Oh my god! Giorgia e il princi puttana nello stesso deck. Le ho viste tutte, ragazzi. Tutte, tutte, tutte le ho viste, now, eh. Cioè, vi rendite conto che ho trovato? Oh, qualcuno ce l'ha fatto, IMLI? No, vero? No, ma come ci pensi, ne fa? Ma da che pensavi? Allora, qua comunque noi attacchiamo sempre. Più che per valorizzare il maiale, perché ho tanta paura di barbari. E in teoria lui non dovrebbe poter giocare barbari, ora. I danni arrivano. Potrei anche giocare aggressivo, eh. Sono disperato. Non ho scheletonarmi, ragazzi. Ho dovuto far così. È molto triste la mia difesa. Lo so. E lui ha anche i barbieri. Dobbiamo ricordare sta cosa. I barbari saranno molto difficili da buttare giù per me. Questa la possiamo fare. Non ho visto grandi fireball. Quindi questa la fa... Ok. Cambiamo lane. No, paradossalmente mi va benissimo. Sapete che va bene meglio così, paradossalmente, che abbiamo tolto quella puttana subito. Adesso devo splittare l'attacco immediatamente, perché lui se no fa barbari. I barbari saranno un problema devastante nell'animo. Eccoli qua. Puntuali e precisi del demonio puttana. Niente, mi hanno asfaltato... No, princi puttana lì, no. Princi puttana lì, no. Capirai, capirai. A voi. Stiamo belli freschi, eh. Belli, belli freschi. Del demonio puttano. Non ne posso plus. Non ne posso plus. Raga, come faccio io ora a fronte... Ah, c'ha pure questa. No, chiedo scusa, ce n'hai un po' tantine, eh, magari. Che dici? Veloce, che il maiale qua è oro. È oro maialoso. Però è pur sempre oro. No, ho sbagliato. Mignotta bastardo, ho sbagliato tutto qua. Non so se faccio una hit, ragazzi. È vero che lui fa... Ti prego, ti prego, non lo stunnare. Vai, ti prego, ti prego, una hit. Ti prego, un'altra hit. Ti prego, ti prego. Oh, mamma mia, mamma mia. Oh, mamma mia. Ho vinto io, 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 mamma mia. crearla bomba. Ragazzi io vinco questa Mi fermo ve lo dico Non finisco la stagione qua perché Ok ho trovato un buon matchup Uno gigante cimeno In realtà ne ho trovato i due ho trovato anche il golem Io l'ho perso ma era buono Ultima partita Sì ragazzi Concludo in top mondiale Concludo altissimo e va bene Davvero Cioè non posso uspicare a fare di più Perché ok Adesso però sto trovando buoni matchup Se vinco questa forse ne faccio un'altra Se poi viene fuori che questo è domatore barbari Rompo tutto addirittura Ok Che cos'è il golem? 2.6 classic no? That's a classic 2.6 Ok non può saper giocare il 2.6 Bene Devo riuscire a batterlo in qualche modo A questo livello di coppia Se usi il 2.6 vuol dire che non sei forte E che non lo sai giocare Altrimenti vorresti essere molto più alto Ok farai il domatore a destra no? Devi fare il domatore caro Non c'hai altre giocate Sei full O fai moschettiare Ah c'ha lo spirito ciumbomboso questo Vabbè Famo noi questo dal fondo Premetto che lo può fare delle volte È domato Oh Meno sono andato a complicare la vita Sapete? Ok l'abilità la faccio Per carità del signore Perché il problema è che qua Anche se dovessi distruggere completamente il cannone Non riesco a giocare GR Quindi in realtà è tutto sto Eh cazzo se fai sgolem ho perso Bravo Ha vinto ragazzi l'opponent Bravo Ha giocato bene ragazzi Non ho lisi il perfumine Moschettiere della madonna Farà Orco Giuda Ho predictato la carta giusta Ma nel posto sbagliato Mannaggia a me Allora calmi Dopo oppo Ha tanti modi È però per lui di sbagliare Eh ma non Che cazzo Eh vabbè bravo Ha tanti modi di sbagliare Ma lui non si fa fregare È un grande Gioca bene Anche se è bassissimo di coppe Sta giocando davvero le migliori Quindi devo solo stare zitto E dire GG all'opponent Io l'abilità tra parentesi l'ho fatta Giuro Sulla mia unità Ok Va benissimo Va benissimo Va benissimo Così va benissimo Va benissimo Va benissimo Eh però Ragazzi va benissimo Non ho fatto un cazzo di danno Ok Vi è andata bene Per carità Ho fatto qualcosina Sembra che sia mossa Però comunque pochissima roba E ho il deck ciclato davvero A cazzo di cani Ora ragazzi Non vi sta a prendere culo C'è un deck ciclato così male È raro Anche per me Che c'ho sempre le carte ciclate Nel peggiore dei modi E io non arrivo più sotto torre Però Il discorso è solo questo E lui invece C'ha un hog rider Anche adesso Che è qualcosa di assurdo Calmi Questo potrebbe essere Un mistake Minimo dell'opponent Ma pur sempre un mistake Non riesco a giocare GR Mannaggia O forse sì È però un GR Molto debole questo No forse ora Con lo spirito Diventa più forte Si risveglia Abilità io l'ho fatta Giuro sulla mia vita Se riuscissi a fulminare Ragazzi quel caso Oh crebio Allora C'è da dire una cosa L'opponent sta giocando benissimo In questo momento però Oh una bella hit del GR Eh raga C'ha tanti modi per sbagliare Cheat Ha sbagliato l'opponent Bene 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 ragazzi Siamo a 7100 Io ragazzi Non credo di poter fare di più Purtroppo Fermati neffi Sì credo proprio di sì Anche perché dobbiamo aprire Tutto il pass battaglia Le ricompense Non concludo top 5 Dai facciamo l'ultima magari Giusto per fare il record stagionale Facciamo l'ultimissima E poi magari staremo in live Altre 3 ore Perché adesso troppo 300 coppe Magari Dai raga Ultimissima Ultima 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 Giusto per fare il record stagionale E se sicuri Dei concludere in top 4.000 In top 5.000 Al mondo ragazzi Che mi piacerebbe Conclude top 5.000 Andiamo La perdi di sicuro Sì perché trovo Mastino a logbait Lo so anch'io raga Però Ce voglio provare Alla fine qualche buon matchup Lo stavo pure trovando Quindi È un po' triste comunque Abbandonare la season qua No È un po' triste Questo è da dire Un po' triste Proviamo questa Potrebbe essere ciumbia Il problema è che non posso fare il farm No devo fare zappis E sperare che non sia ciumbambosis Perché se faccio farmer Non avendo abilità Oh cribbio Va bene Paradossalmente Va bene È una delle cose Mino peggio Che potiamo trovare Ma deve arrivare La skeleton armi Merda Non ce l'ho Merda di vacca Merda 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 Devo ciclare Skeleton armi Ragazzi Avete capito Bene Abilities now Io l'ho fatta L'abilities now Abilities now E ora il pescatore Deve essere bravo E attaccare Grabbare La scindillotzen Va bene Va bene ragazzi Ora io devo riuscire Ad avere questo ciclo del deck Se io riuscirò a mantenere Questo ciclo A lungo Ossia pescatore Farmer E skeleton armi Io posso vincere la partita Se non riuscirò a mantenerlo Non ho alcuna possibilità Di vincere Questo collector È A una forza della madonna Non posso attaccare Con gerre ponte In questo spot Perché ricordiamo Che lui ha sicuramente Il mini pecca Non posso nemmeno giocare Pescatore Su mini pecca In predict Perché altrimenti Perdo il ciclo del deck Corretto Credo Che l'opponent Abbia un mazzo Molto particolare A questo punto Però Non doveva avere mago Credo Presumo Indico I don't know Ok Riusciamo a gestire il mago Non riesco a gestire il mago Ma porco diavolo Bestia Ok 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 Prima che faccia altro Per scammare Oh my god E lì io come difendo C'ha pure barbari Bello il matchup Nefasto Complimenti Complimenti Un tuo solito matchup Bellissimo Ah c'ha pure lorda Bene Bene ragazzi Non ho alcuna possibilità Di vincere Farò un altro gigante Ora Devo fare questa Prima del gigante Sempre se ci riesco Sempre se Dio mi concede Sto miracolo De giocata E c'ha i barbari L'opponent Ma ci rendiamo conto Raga L'opponent c'ha i barbari E ora fa barbari Io raga Io abbandono Cioè raga Non credo davvero Che io possa Umanamente Fare qualcosa E non ve sta Prende culo Cioè raga Io non posso Togliere barbari A me Dispiace tantissimo Perché stavo davvero Tanto alto di coppe Però no No raga Proviamo le 7100 L'ultima volta Non è matematicamente Win Ragazzi Barbari in difesa Con scintilla Mi mancavano I barbari normali Barbari scelti Sarebbe stato Pottibilissimo Ma 5 barbari Così soliti In difesa Io ragazzi Non posso fare nulla Quante coppe Mi togli Se non altro Non 35 Vero 30 Va benissimo Va benissimo Siamo alla prossima Ci stava una fireball O un hunter No 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 Qua strega madre No 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 Era peggio secondo me Con l'hunter Attenzione ragazzi Con l'hunter Questo matchup Sarebbe stato inferiore Invece qua La strega madre È davvero tanto forte Il problema è che Su Barbari Non è che con l'hunter Ci fai qualcosa Capito Quindi in realtà Non cambiava nulla Cioè Era solo peggio In realtà con l'hunter Andiamo Ok Ramrider è ottimo Quando vediamo sta carta Di solito Siamo sempre a vantaggio Siamo molto avvantaggiati noi Facciamo questo Ovviamente Non voglio far skeletonarmi Solo perché non ho il farmer Veramente Fai questa Ma tu sei un folle Cioè adesso Lascia sta che io non ho il farmer Ma se ce l'avessi Tu avresti già perso la partita Mi muto un secondo Ragazzi Ok Bandit Interessante Oh my god Oh mio dio Puttana madre Puttana madre Non ce voglio crede Ragazzi Non ce voglio crede Abilities now Abilities now Abilities now Non ce voglio crede Strega madre No Che cazzo fa una strega madre Da lontano Ehi 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 No Vabbè ragazzi L'ho vissuto Tutte ora Sulla mia vita Avete visto La strega madre Da lontano Cioè non è umano Mi dispiace Ma queste qua Non sono robe umane Stiamo Proprio nel territorio Del disumano Secondo me Cioè strega madre Ragazzi Non so come vinco La partita Io non posso fare Scaledonarmi È la mia carta chiave Non siamo contenti Molto poco da dire Qui rischiamo Secondo me Perché non c'è davvero Grandi chance Farà strega madre No Ok Allora paradossalmente Allora sì Siamo messi gravissimi Siamo messi proprio male male Però già gestire le blonde Tanta tanta roba In uno spot come questo Vedo Ok non l'abbiamo gestito Però abbiamo fatto comunque Di danni carini Potrebbe avere pecca Quasi sempre a pecca in realtà Quindi qua devo stare molto attento Non fare GR a cazzo di cane Che è il modo migliore Per perdere la partita subito Questa la facciamo instant Perché ho bisogno Ok Non è male Eh però Non so se ha fireball lui Non si è sbilanciato molto Un po' di paura Devo salvare la puttana madre Fino a qua siamo tutti d'accordo Vero guys E sperare di avere del valore Non abbiamo il valore Mannaggia la zoccola Comunque No 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 La puttana madre Dovevamo attaccare Del demonio Puttana Ma così va anche meglio Ma ci mancherebbe Ma allora facciamo anche Un bel gerrino qua Ma ci mancherebbe altro Che non facciamo il GR Ma siamo deficienti Nell'anima allora Ma certo che lo facciamo Ma certos Ecco qua è inutile Però no Ok Però abbiamo vinto Nel senso No Cioè L'oponent non fa nulla Ha predictato Zappi Se c'è pure riuscito L'oponent era forte Ragazzi Eh Non ho Fortissimo Questo opponent Ha anche predictato Alla fine Ha anche predictato La scheletonarmi Allora ragazzi Dai io mi L'hanno fatto Le 7100 precise Ragazzi Io non so Non me lo fa fare Nessuno di continuare Dai famo l'ultima partita Ragazzi L'ultima 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 E poi apriamo Tutto il pass Sono folle Sono proprio Un folle Ragazzi Sairo Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Patta Patta È counter Sairo È counter È counter Ragazzi Sì Sì Patta di Sairo Patta Di solito Questo qua è un ragazzo Ha iniziato anche a fare streaming Però Ultimamente non sta facendo live Il problema è che gioca Maiali Luana È molto bravo con Maiali Luana Ragazzi Come Ehi Ehi Sairo 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 Fatto prendere un infarto Sairo Le mortetre Mi hai fatto prendere un infarto Sairo Bene Se va la prossima No no È pareggio ragazzi Zero Più zero Meno Cioè nel senso Pareggio Grazie Sairo Grazie mille Un bacione Grazie di cuore Dovevi scammare No ragazzi Ci siamo accordati Ci siamo accordati Per la patta Ed è giusto Che abbiamo pattato Adesso lo ritrovo Adesso lo ritrovo Immaginate Dovrebbe essere arco Non ho gr Cerchiamo di ciclare un gr Giochiamo carte Poco What Madonna No È log bait Con Oddio Ho giocato un po' male Porco Diaz Eccala Già il matchup Non è bello Più io mi impegno A giocare male Da combo Micidiale Ne pasto La veloce Che se noi Torco il cane Allora facciamo Facciamo una cosa Ok allora Io qua voglio Paralossalmente difendere Con la skeleton In realtà neanche serviva A skeletonarmi Paralossalmente Ma va bene comunque Dimmi che riusciamo No Merda di vacca Vabbè l'abilità può essere Comunque forte qua no In teoria Deve fare valchiria E basta lui No non deve fare valchiria Ah si difende così Va bene Cioè è giusto Ho un po' paura Di principode No facciamo Facciamo zappis Abbastanza Cioè una giocata stan Non è che Te fa qualcosa Esta Sti zappis Però Ehm Allora E' vero che lui Mi fa razzo Quasi sempre Ok Questa in teoria L'ho valutato come Non un problema Qua ho visto un trick Non vi preoccupate ragazzi Ho visti solo io i trick Li vedo solo io Non vi preoccupate E qual è il discord Però che ho preso 800 danni Mia fortuna E lui c'ha La torre inferno Quindi ho straperso la partita ragazzi E' valchiria torre infernale Il counter peggiore Che c'è al mio deck Insieme al mastino lavico E quindi GG ragazzi Se va alla prossima Non riesco proprio a batterlo Questo mazzo Cioè lo sapete A parte Quante volte ci ho perso Contro il log bait Così Io raga Non c'ho nemmeno la tronco Manca faccia apposta Non so cosa dire Vi dico la verità Non Oh mio dio Ma cosa sta facendo Io ce provo Raga Ma solo perché Sono davvero Tanto disperato So che non Riescerà mai Questa minchia Gioca pure di merda All'oppone Non ce l'ho Io credo Non se la merita Per niente Sta win Ma per niente Proprio Se la merita Ha giocato Proprio tanto male Secondo me Ma tanto Tanto Eh vabbè Pure io No vabbè Oddio Io in realtà Non è che c'ho troppe colpe Non è che il mio mazzo Può fa tantissime cose Contro di lui Cioè Valkyria Torre inferno Io lo guardo Mentre mi asfalta E' letteralmente così La partita Poi guarda Sta principuttana Che scamba Da dove è nata Ah Fa la torre No raga Dai raga Non 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 prendiamoci in giro Non c'è davvero Un modo Nemmeno remoto Per vincere Contro sto deck Va bene così Raga Non riesco proprio A salire più O meno 25 Grazie a Dio Raga In caso di vittoria Stavolta davvero Mi fermerò Perché lo vedete ragazzi I matchup buoni Non li trovo Il gioco Sembra davvero Che mi stia dicendo Non puoi fare più di così Arrenditi Arrenditi Fai giocare altri Tu ti devi fermare qua Sei un intrettenitore Non sei un pro player E io dico Va bene Supercell Me lo potevi dire dire direttamente E non mi sarei offeso Invece così Mi hai fatto spreca a tempo Mannaggia a te Allora Ah Riedex Eh insomma Questo è un buon matchup Comunque Il bridge Il pecca Dovrei essere Sono 100 Ecco là Fa danno Lui scamma Vero anche stavolta Lui scamma Ah sta scammando Ha scammato 800 danni 800 danni di scam 800 danni di scam Bene 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 Del demonio Dai veloce Quanto ti ce vuole Ucciderlo Qua posso fare la scam play E non ha troppe l'isir lui Orco Giuda Eh Ma arriverà l'isir però Arco no Ho perso C'è un altro Di quei cosi lì Che coglioni Ho perso così No qualche dannino arriva Zitti Però anch'io De là prendo bei dannini E non posso difendere Perché sennò davvero Qualsiasi cazzata Mi fa la torre Spero che non faccia Aritex Preciso eh Preciso nefasto Spero che non faccia Aritex Aritex Comunque dovrebbe essere buona La difesa in teoria No non è più buona No dai buone 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 No 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 Sta scammando Non ha visto il maiale Non ha visto il maiale Di merda Prossima season Vogliamo Jerry George Anch'io la vorrei Ti dico la verità Solo che è completamente Ingiocabile quel deck Una volta era molto più forte Adesso Cioè giocare Jerry George Non ho proprio voglia È debolissimo Quel deck Mi dispiace dirlo Perché ci ho fatto Un video storico Però è davvero tanto debole Ragazzi Ve lo assicuro io Io guarda L'abilità la faccio Sperando di scammare Sarebbe stato bello Anche fulminare Lo so Ma sapete cosa Lui Ok Ho preso anche Qualcosina in più Mi sa qua Dai qualche bella hit Qualche bella hit Qualche bella hit Qualche bella hit Va bene Va bene Va bene Va bene Non so se questo L'ho giocato benissimo In realtà Sta per fare Aritex Credo Non vuole fare Aritex Ok Qui ci sta tantissimo Tronco Anche perché La portiamo a portata Di fulmine Ok No non è a portata Di fulmine Ok ora è a portata Di fulmine Occhio so No Ma perché Ma perché Fatto da ponte Così Ma per quale motivo Abilità Oh mio dio Ho rischiato Di perderla Appena giocata A caso dell'opponent Ho rischiato Di perderla io Ho rischiato Tantissimo Mignota Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Non era totalmente a caso Secondo me Secondo me si Secondo me Sta davvero Una giocata Molto molto Randomica Si ci fermiamo qua Anche perché Devo aprire Tutto un pass Battaglia E quindi Comunque le cose Da fare Ce le abbiamo Ragazzi Devo aprire Tutto il pass Battaglia Vi ricordo Che vado in live Tutte le sere Alle ore 21 e 29 Sul sito Viola Mi potete trovare Cercando Nefastone